Buongiorno, buongiorno, buongiorno Ricordiamo che la Vanya Lambo chi esce fuori dal ring perde Ah, in 10 secondi entrerà un lottatore voi dovete dirmi con ring andiamo attento a un suplex deve diventare qualcun altro entra il devoliscio entra l'altra coppia no, no, no il primo già è basso gioco di corde, gioco di corde gioco di corde gioco di corde gioco di corde chi gli ha dolla? un'azione combinata? un'azione combinata di corde